Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. In queste settimane si è parlato molto anche di alcune situazioni di degrado che hanno coinvolto la città. Il sindaco Carlo Barbieri quotidianamente su Facebook riceve delle segnalazioni da parte dei cittadini che sono molto attivi e appunto partecipano e segnalano. Anche noi di JAPTV abbiamo documentato le scritte sul castello e anche il vicolo qua in Piazza Duomo che è molto spesso purtroppo non così pulito. L'amministrazione in questo senso è impegnata effettivamente nel concreto oppure no? Il sindaco Carlo Barbieri è molto vicino a queste segnalazioni quotidiane, in tempo reale gli arrivano. Le è smista per aree di competenza, le fa sue come problema primario. Le è smista come aree di competenza per forza agli assessorati, agli uffici che sono attinenti. Per quanto mi riguarda con Delega d'Ecologia e Ambiente ho ricevuto queste segnalazioni. La sensibilizzazione degli uffici e dei funzionari è immediata. Si cerca con i sopralluoghi, con gli interventi capillari in tempo reale di risolvere il problema. Dove il problema richiede una soluzione più capillare e più estesa si cerca da subito di affrontarlo in tutta la sua totalità. Non si può documentare in maniera più cegliere il vostro lavoro? Perché molti cittadini probabilmente non lo sanno che poi voi agite, magari non vanno a verificare, però sarebbe bello se voi poteste documentarlo sempre attraverso i social network per esempio. Questo è vero, va documentato, altrettanto possiamo dire per i cittadini. Io l'ho sempre detto dall'insediamento che risale più di un anno fa, cioè l'ambiente non va in vacanza. Cari cittadini segnalateci le situazioni di degrado. Noi quotidianamente facciamo sopralluoghi e monitoraggi in zone della città che sappiamo essere più critiche a rischio, ma i nostri occhi, siamo umani, non arrivano dappertutto. Con i vostri occhi possiamo monitorare lo stato della città e questo è prezioso perché prevenire è molto meglio che curare e quindi la prevenzione e l'atto immediato aiuta molto in questo. In queste ultime settimane si è parlato molto della sede baratta dell'Istituto Maserati, delle pareti della palestra, ma anche di questo auditorium che è una struttura ormai ventennale che però non è mai stata utilizzata. Cosa farà questa amministrazione per poter risolvere questo tipo di problema? Vorrei chiarire prima di tutto che la gestione delle scuole superiori è di competenza esclusiva della provincia. Questo non vuol dire che l'amministrazione in corso e la sottoscritta con delega alla scuola non si faccia carico, per quanto può, di essere interlocutore primario con la provincia che ha esclusiva gestione di questo, per sensibilizzarla e incrementare il più possibile un'accelere risoluzione del problema perché chi frequenta l'Istituto Baratta posso usufruire della palestra, mensano e incorpore sano, una prerogativa dello sport a tutte le età e soprattutto posso usufruire anche della palestra in quanto tale dell'auditorium che è una costruzione ventennale che è giusto che venga riportata alla sua pienezza nella possibilità di utilizzo da tutti i fruitori. Nella misura in cui l'auditorium dovesse aprire le porte alla città l'amministrazione sarà ben lieta di cogliere l'invito, priorità assoluta ovviamente all'Istituto Baratta di cui è parte centrale.